Ciao, stai per ascoltare l'episodio 118 di Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Scritto e prodotto da me, Salvatore, un insegnante di italiano per stranieri con la passione per le storie. Se cerchi qualcosa da ascoltare in un italiano adatto a te e che non parli sempre delle stesse cose, questo è il posto giusto. Il podcast è fatto di 5 serie tematiche. L'episodio di oggi parla di storia, ma puoi trovare anche episodi di sport, cultura, città e lingua italiana. Se un episodio a settimana non è abbastanza per le tue esigenze, puoi ascoltare la serie premium che esce ogni mercoledì, dedicata all'attualità. I temi li scegliamo assieme io e gli ascoltatori e puoi accedere anche tu sostenendomi su Patreon. Per saperne di più vai su www.patreon.com slash Salvatore Racconta. Ora però andiamo al sodo, ho qualcosa da raccontarti. Ciao, stai ascoltando Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se studi italiano e ne hai abbastanza di sentire parlare sempre di pizza, caffè e di quanto sia bella Venezia, questo è il podcast che fa per te. Ogni sabato qui troverai contenuti originali sull'Italia per potenziare il tuo italiano e conoscere meglio il paese che ami. Se un episodio a settimana non è abbastanza per te, puoi accedere alla serie del mercoledì riservata agli abbonati. È dedicata a temi di attualità. La trovi all'indirizzo www.patreon.com slash Salvatore Racconta. Ma per il momento, buon ascolto! La storia del mondo cambia attraverso piccoli dettagli, cose che vanno in un modo invece che in un altro e trasformano la realtà. Uno dei giorni più duri della storia italiana parte da una telefonata. Il 9 maggio del 1978, un uomo telefona a un professore dell'Università di Roma. Al telefono non risponde lui, ma il figlio. Ma non importa, l'uomo che ha chiamato deve solo comunicare una cosa. La conversazione non si sente bene, il telefono gracchia, c'è rumore. Il ragazzo deve chiedere di ripetere. Ma con chi sto parlando? L'uomo all'altro capo del telefono non vorrebbe ripetere. Poi però decide di tagliare corto. È delle brigate rosse. Quando sente quelle due parole, il ragazzo si zittisce. Negli anni 70, in Italia, brigate rosse sono due parole che fanno paura. Fanno venire in mente omicidi, violenza, orrore. Il ragazzo tuttavia mantiene la calma, o almeno ci prova. L'uomo al telefono gli spiega il motivo della sua telefonata. Le brigate rosse hanno ucciso un uomo, un loro prigioniero. Lo hanno dovuto fare perché la controparte non ha voluto negoziare. La controparte, in questa situazione, era lo Stato italiano. L'uomo che le brigate rosse avevano fatto prigioniero e che poi hanno ucciso, in quel momento era l'uomo più famoso di tutta Italia. Si chiamava Aldo Moro. Dal giorno del suo rapimento, il 16 marzo di quello stesso anno, polizia, carabinieri, investigatori privati e persino maghi e veggenti avevano provato a cercarlo. Senza successo. Le brigate rosse lo avevano tenuto prigioniero per quasi due mesi, come ostaggio. O ci date quello che vogliamo o dovremo ucciderlo. E alla fine lo hanno ucciso. Durante quella telefonata, che oggi è diventata un documento storico, un uomo delle brigate rosse informa che il corpo di Aldo Moro potrà essere ritrovato in via Michelangelo Caetani, a Roma, nel bagagliaio di una Renault 4 di colore rosso. Via Caetani, la Renault 4, il corpo di Aldo Moro, i tre simboli di una giornata tragica per la Repubblica Italiana. Una pagina di storia da cui non si può tornare indietro. Una pagina di storia da raccontare. Delle Brigate Rosse vi ho già parlato nell'episodio 106. Per farla breve, erano un gruppo comunista rivoluzionario, convinto che in Italia fosse necessario e giusto fare la rivoluzione attraverso la lotta armata. All'inizio le Brigate Rosse, o BR per semplicità, organizzavano azioni dimostrative nelle fabbriche. Bruciavano automobili, scrivevano comunicati, rapivano capireparto. Poi avevano deciso che tutto questo non era sufficiente, che lottare in fabbrica non sarebbe bastato. Era necessario combattere a un livello più alto. Per usare il loro lessico bisognava colpire al cuore dello Stato. Perché il problema nella loro narrazione non erano le singole fabbriche dove i singoli operai erano sfruttati. Il problema era strutturale, nello Stato italiano e in chi lo governava. Secondo loro il partito comunista italiano non faceva abbastanza, anzi da tempo intrallazzava con la democrazia cristiana per andare al governo. Era chiaro per le BR che ormai quelli erano comunisti soltanto nel nome, si erano venduti, erano parte del problema. A metà degli anni 70 le BR avevano già alzato il livello della violenza. Avevano iniziato a uccidere, soprattutto avvocati, giudici, giornalisti. Le forze dell'ordine, con alcune azioni spettacolari, avevano arrestato molte persone legate alle Brigate Rosse, ma non erano riuscite a distruggerle del tutto. Perché i brigatisti erano bravi a nascondersi, a vivere in clandestinità. Anche dopo un attacco duro, sapevano tornare alla carica. E così avevano fatto anche dopo l'ultima volta, spostando il centro della loro azione dal nord Italia a Roma. Al nord c'erano le fabbriche e gli operai, il cuore della loro azione. A Roma però c'erano i palazzi della politica. L'attacco al cuore dello Stato, per loro, significava questo. Dimostrare di essere abbastanza forti da rapire o uccidere un politico importante, per convincere quante più persone possibili della loro forza e scatenare la rivoluzione. La scelta dell'obiettivo era caduta su un politico pugliese della democrazia cristiana, Aldo Moro. Secondo quanto raccontato dagli stessi brigatisti, la scelta di Moro era stata dovuta a fattori tecnici. Era quello più facile da rapire tra tutti i politici di primo piano. Moro non era uno qualunque, anzi, era un politico estremamente influente, presidente della democrazia cristiana e promotore del compromesso storico, cioè dell'idea di un'alleanza tra i democristiani e il partito comunista italiano. Un'idea completamente surreale e inammissibile fino a dieci anni prima, ma che Moro e la sua controparte nel PCI Enrico Berlinguer stavano portando avanti con l'obiettivo di pacificare l'Italia. Gli anni settanta, lo abbiamo raccontato, erano stati un decennio di forte violenza politica, da destra e da sinistra. Forse l'unione dei due grandi partiti popolari italiani avrebbe risolto la cosa. Va detto che l'idea del compromesso storico aveva molti nemici. Dentro la democrazia cristiana, per esempio, non tutti erano d'accordo con Moro, anzi erano pochissimo convinti di quest'idea. Naturalmente non erano d'accordo i gruppi di destra, che avevano una paura terribile di vedere i comunisti arrivare al governo. E non erano contenti nemmeno i gruppi della sinistra radicale, perché erano convinti che questa situazione avrebbe definitivamente normalizzato il partito comunista e avrebbe distrutto ogni speranza di rivoluzione. In base a quest'ultima considerazione, alcuni studiosi pensano che le BR abbiano rapito e ucciso Aldo Moro per impedire il compromesso storico. È solo una teoria, non ci sono prove. Ma su questa storia le teorie sono tantissime. Qualcuno parla del coinvolgimento del Mossad, i servizi segreti israeliani. Qualcun altro invece pensa che fossero coinvolti gli americani o i britannici. Di certo anche loro poco contenti di vedere i comunisti al governo. Va detto però che queste sono davvero solo ed esclusivamente teorie. I fatti sono un'altra cosa e sono cominciati il 16 marzo del 1978. Quella mattina l'onorevole Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, si trova in auto nella periferia di Roma, pronto ad andare in Parlamento. Dopo mesi di negoziazioni sta per nascere un governo presieduto dal suo collega e rivale interno Giulio Andreotti e sarà un governo senza l'opposizione del PCI. Insomma, il primo passo del compromesso storico per cui Moro ha lavorato tanto. Moro viaggia con due macchine. Davanti a quella dove si trova lui ce n'è un'altra con una scorta di poliziotti. Sono anni duri, non si sa mai. A un certo punto le due auto di Moro si trovano all'incrocio tra via Mario Fani e via Stresa. Un tratto di strada un po' in salita. Le auto rallentano ed esattamente in quel momento qualcuno comincia a sparare. Sparano sulla prima auto, quella con la scorta, poi anche sulla seconda. Uccidono tutti i poliziotti, poi prendono Moro e lo caricano su un'altra auto. Spariscono tutti nel giro di pochi minuti. Sono le Brigate Rosse che progettavano quell'azione da mesi e l'hanno organizzata nei minimi dettagli. Hanno rischiato molto, hanno ucciso cinque uomini innocenti. Ma ce l'hanno fatta, hanno rapito Aldo Moro. Le BR rivendicano subito il gesto con comunicati molto chiari. Parlano di Moro come di un esponente della controrivoluzione imperialista che distrugge l'Italia. In cambio di Moro chiedono la liberazione di alcuni militanti di estrema sinistra che si trovano in prigione. Lo Stato italiano rifiuta di negoziare. Nel paese c'è un misto di paura e di strana eccitazione. C'è la sensazione che qualcosa di grande stia per accadere. Forse terribile, ma pur sempre grande. Nel frattempo le forze dell'ordine cercano il posto in cui è nascosto Aldo Moro. Lo cercano per 55 giorni, ma non lo troveranno mai. È nascosto in un appartamento all'apparenza borghese dove vivono due brigatisti che fingono di essere una coppia sposata della classe media. Nessuno sa che in quell'appartamento, mesi prima, hanno realizzato una stanza segreta che poi è diventata la prigione di Aldo Moro. Da quella prigione Moro aveva comunque la possibilità di comunicare con l'esterno, naturalmente con il consenso dei brigatisti. In 55 giorni scrive quasi 90 lettere, dirette ai suoi compagni di partito, ai comunisti, persino al papa. Sono lettere molto profonde e lucide, quasi incredibile se si pensa che le scriveva un uomo imprigionato e che era quasi sicuro che sarebbe stato ucciso. Parla di responsabilità politica, chiede riflessioni e soprattutto chiede aiuto. Moro è un politico, ma è anche un uomo e non vuole morire. Le Brigate Rosse, dal canto loro, dicono chiaramente che l'obiettivo non è uccidere Aldo Moro. Vogliono negoziare le loro condizioni, uno scambio di prigionieri, come in guerra, perché per loro quella è una guerra a tutti gli effetti. La maggior parte dei partiti politici, tuttavia, è fortemente contraria alle negoziazioni. Soprattutto sono contrari il partito di Moro, la DC, e anche il partito comunista italiano. Secondo loro, negoziare con le Brigate Rosse significa ammettere il loro ruolo, accettare che quello sia un modo di fare politica in Italia, un segnale molto pericoloso. Nel frattempo, la polizia continua a cercare Moro, a destra e a manca, per tutta Roma e anche fuori. Sono così disperati da affidarsi a soluzioni molto improbabili. Oggi conosciamo la storia di una di queste. Nell'aprile del 1978, un gruppo di persone vicine alla democrazia cristiana organizzano una seduta spiritica. Ebbene sì, si siedono attorno a un tavolo e parlano con gli spiriti attraverso una tavola di legno con lettere e numeri. È difficile prendere sul serio questa storia, ma a un certo punto gli spiriti danno un nome. Gradoli è il nome di una cittadina non lontana da Roma. Disperati, i poliziotti vanno lì a cercare Moro. Ovviamente non lo trovano. Se la storia finisse qui andrebbe ancora bene. Il fatto è che a Roma esiste una strada che si chiama Via Gradoli e lì all'epoca abitava Mario Moretti, uno dei capi delle BR, uno che tutti i giorni usciva da casa sua per andare alla prigione di Moro. Chissà che cosa sarebbe successo se lo avessero scoperto e arrestato. Ma non l'hanno scoperto. Le BR hanno tenuto Moro prigioniero fino al 9 maggio, fino al giorno della famosa telefonata. Siccome lo Stato non voleva negoziare, alla fine è stata presa la decisione finale, l'esecuzione di Aldo Moro. Non abbiamo la certezza assoluta su chi abbia effettivamente premuto il grilletto della pistola. Ma questo importa soprattutto ai giudici. La verità storica è molto più semplice. Aldo Moro è stato ucciso dalle Brigate Rosse. Il corpo, secondo le indicazioni, viene trovato effettivamente all'interno di una Renault 4 di colore rosso parcheggiata in via Caetani. Da quel giorno l'Italia non è più la stessa. Il progetto di compromesso storico salta per sempre. La Repubblica Italiana si è mostrata allo stesso tempo fortissima e debolissima. Fortissima nella sua fermezza di non accettare di negoziare con i terroristi. Debolissima per non aver saputo proteggere un uomo dello Stato. Nell'aria c'è preoccupazione. Se sono riusciti a rapire Aldo Moro, a tenerlo prigioniero per 55 giorni e poi a ucciderlo, ma dov'è lo Stato? Per le Brigate Rosse? Dall'altra parte della barricata? Quello è il momento della massima potenza, ma anche l'inizio della loro fine. I loro comportamenti, i loro comunicati, i loro obiettivi sono sempre più incomprensibili. Anche per le persone di estrema sinistra, arrabbiate e desiderose di una rivoluzione. L'affare Moro è una gravissima ferita nel corpo sofferente della Repubblica Italiana. Come le bombe neofasciste, come i tentativi di colpi di Stato. Il penultimo gravissimo evento degli anni settanta italiani. Un decennio di incertezza e paura che non è destinato a vedere la fine dentro il bagagliaio di un Renault 4 di colore rosso. Manca ancora un pezzo, un pezzo macchiato di sangue in una mattina d'estate. Ma di questa storia parleremo un'altra volta. Hai ascoltato Salvatore Racconta, un podcast in italiano semplice ma non banale. Se l'episodio ti è piaciuto e ci sono parole ed espressioni nuove che vuoi approfondire, puoi ricevere gratuitamente la trascrizione dell'episodio con un glossario delle parole più difficili iscrivendoti alla newsletter del podcast. Per altri materiali di lessico e grammatica seguimi su Instagram e visita il sito salvatoreracconta.com. Trovi tutte le informazioni necessarie nella descrizione di questo episodio. Alla prossima!